Questa notte abbiamo dovuto sostenere l'arrivo di altri 200 migranti in tutto il Veneto, di cui 50 nella provincia di Venezia. Per i nuovi arrivati sono attualmente in corso le procedure di identificazione, poi si dovrà stabilire dove collocarli. Dall'incontro mattutino con i sindaci, rappresentanti delle associazioni di volontariato e gli albergatori, che nei mesi scorsi hanno procurato gli alloggi per il fiume di Profughi, arrivato in Veneto è emersa la pressoché totale mancanza di nuovi posti liberi. Purtroppo le disponibilità alloggiative ormai si sono esaurite e quindi dobbiamo anche individuare delle forme di sostegno e di ausilio nei confronti dei migranti che dovessero esserci assegnati nei prossimi giorni. Alcune associazioni di categoria Veneti nei giorni scorsi avevano dichiarato la loro disponibilità ad accogliere i migranti, incassando i rimborsi di 30 euro dallo Stato che per alcuni albergatori sarebbero anche un modo per risanare i propri bilanci alleggeriti dalla crisi del turismo.